C'è il segno degli occhiali, senza! Non si vede l'acqua, ti giuro che non si vede! È perché dall'altra parte è l'acqua, è l'acqua, è l'acqua. Tuoi avessi appunto interfaccia? È l'acqua. C'ho degli occhi enormi! Ma dai, ma non voglio il penelicenzo! Perché facciamo un inquadratore favoloso! Orribile! Cosa? L'yogurt al cocco! Madonna mia! Quanti te mangeresti? Parecchi! Ma no! E' una penna di cocco! Del cocco si! L'yogurt al cocco no! Il cocco in generale è il mio frutto preferito! Il cocco pure a me piace! Bene! E' importante! Il cocco deve essere cioccolato! Pronto? Oh Dio! Ma che? Guarda, da qui prenderò talmente di quelle foto favolose! Eh... No! Fatemela così la foto! Dio, guarda! Sembra un elfo! No! Sono brutti! Sembri no! Sembri gollum! Sembri gollum! Sembri gollum! Guarda! E' orribile! E' eliminatela tutti! Guarda! Sembra gollum! Sì! Infatti! Ve la puoi eliminare il favolo! Ragazzi c'è una cosa! Guarda che se voglio essere cattivo non mai faccio di quelle foto orribili che vi taggo Saggio! 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 Un attimo! Fai queste foto orribili! Falle! No! Io voglio bene Saggio! Ero! Partei! Partei!